Il viaggio della politica calabrese ha notificato il provvedimento dell'autority anticorruzione e tre mesi di poteri limitati per il governatore che però dalla festa dell'unità di Caolonia rilancia il suo impegno. Via Galati Forza Italia prova a riorganizzarsi sul territorio e nomina il coordinatore di Catanzaro e Vibo. E' morto il boss Luni Vetrinetta, considerato tra i capi mafia più potenti dell'Andrangheta era detenuto nell'alta sicurezza del supercarcere di Tolmezzo. Era stata rigettata in attesa di una nuova perizia la richiesta di scarcerazione per motivi di salute. Basta vittime sulla 106, la denuncia e l'appello del presidente dell'associazione Fabio Pugliese e ospite della nostra domenica. I politici diano delle risposte e poi i cittadini protestino contro il massacro e restituiscano le tessere elettorali. L'aeroporto dello Stretto rischia di chiudere. L'allarme lanciato dal presidente Porcino, la crisi della SOGAS, società di gestione dello scalo potrebbe portare il tito Minniti alla chiusura nel volgere di breve tempo. Il derby delude e la Palmese vola. In Lega Pro, Scialbo 1-1 tra Catanzaro e Cosenza. In serie di Neroverdi approfittano della sconfitta della Vibonese nell'anticipo e si confermano in vette i risultati e i gol della giornata. Telespettatori di Laci, buon inizio settimana. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione. In apertura, lo avete visto nei titoli, l'inibizione combinata dall'autorità nazionale anticorruzione al governatore Mario Oliverio diventata esecutiva. Dopo il caso Gioffre all'azienda sanitaria di Reggio Calabria è stato infatti notificato il provvedimento che limita per tre mesi i poteri del Presidente della Regione. Il punto in questo servizio di Tiziana Bagnato. Tanto tu no che piove. La sanzione combinata dall'autorità nazionale anticorruzione nei confronti del governatore Oliverio è diventata esecutiva. Tre i mesi per i quali il Presidente dovrà evitare di procedere a nomine. Un termine che in verità Oliverio ha anticipato, evitando di prendere parte in prima persona le riunioni decisive in tal senso, anche prima che la sanzione diventasse fattiva. A dare inizio alla vicenda era stato l'interesse dell'ANAC per la nomina commissario straordinario dell'ASP di Reggio Calabria di Santo Gioffre, una nomina che non era piaciuta a Raffaele Cantone. Il magistrato, Presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, aveva infatti considerato incompatibile l'incarico, viste le cariche istituzionali ricoperte nei cinque anni precedenti dal medico, politico e scrittore. Un nodo o un'ambiguità burocratica questa, visto che il Ministero della Pubblica Funzione aveva invece interpretato la norma nel mirino non considerando tra gli incarichi di incompatibilità quello di commissario straordinario. Ecco perché sarà probabilmente su questo fronte che si potrebbe giocare un'eventuale difesa. Da oggi scatta il candauno per eventuali impugnazioni, ma non è detto che Oliverio voglia con certezza ricorrere le armi legali. Potrebbe infatti decidere di procedere, come ha fatto fino ad ora, evitando di presenziare le riunioni nel mirino dell'ANAC, tirandone le fila da dietro le quinte. E presumiamo con la politica dopo l'addio di Pino Galati, che ha aderito al progetto politico di Denis Verdini. Forza Italia prova a riorganizzarsi. Iole Santelli affida i coordinamenti provinciali di Forza Italia a Catanzaro e a Vivo a due consiglieri regionali, mentre a breve potrebbero esserci novità anche a Reggio Calabria. Dopo il passaggio di Galati al gruppo di Denis Verdini, orfana di uno dei suoi leader storici, Forza Italia serra le fila e pensa alla riorganizzazione territoriale. A partire dalle nomine dei coordinatori provinciali, a Farle è stata Iole Santelli, coordinatrice regionale azzurra, che ha scelto di affidare la gestione di FI a Giuseppe Mangialavori per Vivo Valencia e Domenico Tallini per Catanzaro. Dopo gli ottimi risultati elettorali conseguiti da Mangialavori, sia nelle competizioni regionali che in quelle comunali, ha osservato Santelli, sono certa che saprà fare squadra e dare a Vivo Valencia risultati ancora migliori in sinergia con il coordinamento regionale ed il consigliere Nazareno Salerno. Il capoluogo di regione viene invece affidato a Tallini in considerazione, spiega una nota, della sua esperienza, del suo radicamento territoriale e dei suoi risultati elettorali sempre estremamente lusinghieri ed importanti. Potrebbe essere necessario a breve procedere anche alla nomina di un coordinatore su Reggio Calabria, dove quell'attuale, Roy Biasi, già assessore provinciale e candidato a sindaco di Taurianova, ha annunciato che potrebbe rinunciare all'incarico per dedicarsi appieno alla sua corsa per la poltrona di primo cittadino. E nella serata di ieri a Caolonia si è conclusa la festa dell'unità organizzata dalla Federazione Regina del Partito Democratico, protagonisti Maria Grazia, Lagana, Fortunio e Mario Oliverio. Nel ricordo delle battaglie politiche di Franco Fortunio si è conclusa la tre giorni della festa dell'unità a Caolonia, promossa dal Partito Democratico Regino. Maria Grazia Lagana, incalzata dal giornalista Enzo Romeo, ha raccontato il marito Franco dal lato più umano, quello meno conosciuto al pubblico, dal legame profondo con i fratelli all'affetto per i figli, senza mancare di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ci sono stati due pentiti, un processo durato otto anni e cinque gradi di giudizio per l'omicidio di mio marito. Escluso, almeno per il momento, il ritorno in politica della vedova Fortunio. Si può fare politica, ha detto, anche e soprattutto meglio senza ricoprire incarichi istituzionali. A tarda sera poi l'atteso intervento di Mario Oliverio, il governatore accompagnato dal segretario provinciale del Partito Democratico, Sebi Romeo, dal segretario del circolo caoloniese Chetty Belcastro e dall'assessore regionale a lavoro Federica Roccisano, ha fatto il punto sullo stato della politica regionale. Attraverso la programmazione si può evitare di perdere risorse importanti, ha spiegato. Siamo scesi in campo per dare un contributo alla vita della Calabria e aprire una prospettiva diversa, e ciò vuol dire incidere e cambiare. Se non riparte il mezzogiorno, ha chiusato il governatore, anche l'Italia non riparte. La riunione della direzione convocata da Renzi sul tema è stata un fuoco di paglia. E passiamo alla cronaca. È morto in Friuli Pantaleone Mancuso, meglio conosciuto come Luni Vetrinetta, ritenuto il boss di primissimo piano dell'Andrangheta, era detenuto nel carcere di Tolmezzo. I funerali, su disposizione del questore di Vibo Valencia, si svolgeranno all'alba una volta rientrata la salma all'imbadi. La notizia, lanciata domenica pomeriggio dal Vibonese.it, dilaga in poche ore. Pantaleone Mancuso, alias Luni Vetrinetta, spira a Tolmezzo, Udine, dove era detenuto nella sezione alta sicurezza. 68 anni, considerato tra i boss più influenti di una delle più potenti famiglie di Andrangheta calabrese, era affetto da un male incurabile. Nei giorni scorsi, in attesa di una nuova perizia medico-legale sulla compatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione in carcere, era stata rigettata la richiesta del suo legale di fiducia, Leopoldo Marchese, affinché lasciasse il superpenitenziario di Tolmezzo per andare ai domiciliari. Mancuso, membro della cosiddetta dinastia degli Undici, ovvero gli Undici Fratelli, su cui si impernia storia e blasone criminale del casato mafioso di Nimbadi, era stato condannato col sentenza passata in giudicato, quale capo promotore dell'omonimo clan nell'ambito del maxiprocesso Dynasty, affari di famiglia, finito ai domiciliari, la Didia di Catanzaro, indagando su di lui, aveva dimostrato la perdurante operatività della cosca d'appartenenza. Già principale imputato nei processi denominati Minosse 2 e Black Money Overseas Purgatorio, si trovava in regime di detenzione dal 2013. E adesso torniamo a parlare della strada statale 106, un grido di dolore e di denuncia, quello che ieri, alla nostra domenica, il programma domenicale di LACI è stato lanciato dal presidente dell'associazione Basta Vittime della 106, Fabio Pugliese, un severo monito alla politica e l'invito ai cittadini calabresi a restituire le tessere elettorali. 650 morti, 54 dal 2013 ad oggi, 19 dall'inizio dell'anno, 24.000 feriti e 9.000 sinistri. È un vero e proprio bollettino di guerra, la strada statale 106 ionica, ribattezzata come strada della morte. A dire basta questa lunga scia di sangue è Fabio Pugliese, che ha intrapreso una vera e propria campagna di sensibilizzazione per chiedere l'ammodernamento di un'arteria obsoleta, per la cui messa in sicurezza erano previsti 16 miliardi di euro, che sarebbero dovuti servire per ammodernare il tratto tarantoreggio, ma i cui lavori però si sono fermati al confine con la Basilicata. Per l'associazione Basta Vittime sulla 106, i responsabili di tutto questo sono i parlamentari calabresi. Ne è convinto il presidente Fabio Pugliese che ieri, collegato via Skype con la nostra domenica, ha ribadito la sua volontà di non andare a votare. Serve non andare a votare, ma non perché, diciamo, il non voto è una protesta a fine a se stessa, perché noi calabresi, secondo me, lei me lo deve permettere, e secondo l'associazione che presiedo, deve iniziare ad esercitare un diritto sacrosanto e civile, quello di mandare a Roma e soprattutto alle istituzioni più alte, è un messaggio chiarissimo. Noi non partecipiamo più alla vita democratica di questo Paese fin quando voi non vi occupate degli interessi nostri, atteso che la nostra classe parlamentare è incapace di farlo. E torniamo sul caso di Alexandra, la ragazza scomparsa oltre due settimane fa tra Bisignano e Acri. Le indagini vanno avanti mentre si riducono le speranze di trovarla viva. Il servizio. 33 persone ascoltate e nessun indagato. Si teme il peggio, ma le ricerche continuano. Sono passati 17 lunghi giorni dalla scomparsa di Alexandra e Roxana Radan, ventenne di origine romene, residente a Bisignano, nel Cosentino. I militari, guidati dal comandante del nucleo operativo di Cosenza, il maggiore Michele Borrelli, hanno avviato fin da subito le ricerche, setacciando senza risultati il territorio del Paese e la campagna circostante. In queste settimane gli inquirenti non hanno lasciato nulla di intentato, battendo diverse piste dall'allontanamento volontario al rapimento, passando per la più atroce delle prospettive, che qualcuno abbia fatto del male ad Alexandra e ne abbia occultato il corpo. Ma la madre della giovane assistita dall'avvocato Aurora a San Germano ha dovuto far fronte, oltre che al carico di dolore per la scomparsa della figlia, anche ad alcuni voci insistenti, secondo le quali la ventenne avrebbe concesso prestazioni sessuali in cambio di denaro ad alcuni anziani di Bisignano. Circostanze che la madre di Alexandra ha pubblicamente smentito, chiedendo che l'attenzione generale ritorni sulle ricerche della ventenne, uscita di casa quella mattina di sabato intorno alle 10, dopo aver ricevuto una telefonata, vestita con abiti da casa, spettinata e struccata con in mano solo il cellulare, l'ultimo contatto a spezzarsi che ha squillato a vuoto per giorni prima di spegnersi definitivamente. E adesso apriamo l'ampia pagina dello sport, finisce 1-1 il derby di Lega Pro tra Catanzaro e Cosenza, partita scialba e nervosa, ma vediamo com'è andata in questo servizio. I nuovi ammoniti la dicono lunga sulla gara, così come i due soliti rinporta, peraltro da fermo, nel corso della prima frazione. Derby tutt'altro che spettacolare, segnato dall'agonismo sfociato presto nel nervosismo. Derby brutto tra Catanzaro e Cosenza, in cerca di riscatto dopo le ultime batoste contro Acragas e Messina. Derby brutto tra Consorelle che si annullano con due reti seglati entrambe nella ripresa. A fine gara sono i lupi a recriminare, mentre alle aquile va bene un pareggio giusto, mister Turso Ips ed Ixit ha ciuffato dopo aver riassaporato l'amaro gusto di una sconfitta incipiente. Primo tempo noioso, solo al quarto della ripresa la gara un vero e proprio sussulto, quando Righini devia in tuffo dopo un tacco di raimotti una scodellata di statella. Scuffia non ci arriva e Cosenza in vantaggio. I ragazzi di Roselli d'altronde gestiscono male la gara sul piano mentale e così a Rigoni dopo appena nove minuti mette giù in aria Taddei. Penalti che Razzitti realizza spiazzando l'estremo ospite. Finisce così 1-1 il 43esimo derby tra Catanzaro e Cosenza e agli annari non passerà certo tra i più esaltanti. In sala stampa nel post partita il tecnico del Catanzaro Massimo D'Urso ha parlato di pari giusto e ha evidenziato comunque i progressi dei suoi ragazzi. Ascoltiamolo. Il pareggio di oggi sotto il profilo tecnico è un pareggio giusto. Entrambe le squadre hanno mostrato di avere qualcosa nel loro organico. Noi quello che va premiato e quello che va ad evidenziare sono due gli aspetti. Uno l'atteggiamento del Catanzaro è un atteggiamento molto propositivo. a parte i primi 15-20 minuti dove essendo un derby è una partita molto particolare quindi se è contratto c'era un po' di nervosismo una volta che si è sciolto tutto questo abbiamo cercato di lavorare quello che abbiamo fatto in settimana quindi la palla tra le linee palla negli spazi che loro concedevano siamo stati bravi a trovarla non siamo stati bravi magari a concretizzare ma come indice di pericolosità che è dettato dagli angoli dai tiri in porta dalle punizioni dalle pallonattive conquistate stiamo sempre crescendo da due settimane questa è la terza la partita con la Juve Stabia la partita con l'Agragas che ci ha visto sconfitti io vedo sempre un Catanzaro in crescita E sul fronte opposto invece Giorgio Roselli ostenta serenità nel commentare il risultato anche se tra le sue parole si legge un filo di amarezza ma stretti non stanno mai i risultati alla fine ognuno ha quello che si merita noi abbiamo fatto appena finito di dire molte cose probabilmente giocato meglio probabilmente meritavamo qualcosa in più ma non siamo ancora pronti per fare il piccolo salto che di fatto non abbiamo fatto perché andando in vantaggio meritatamente e potendolo gestire non è che non l'abbiamo gestito bene perché il Catanzaro sinceramente ci poteva fare gol su un episodio che però ha cercato e ha voluto e ha trovato merito al Catanzaro un pochino meno a noi perché poi abbiamo avuto sia in quei nove minuti del vantaggio che sia dopo due o tre contropiedi in doppia supera la numerica e non abbiamo risultati bene queste sono cose che nel calcio contano e ripeto io dico sempre che ognuno ha quel che si merita in questo momento noi meritiamo un po' ma non troppo ma leggiamo grazie alla videografica quali sono stati i risultati della Lega Pro Ischia Fidelisandria e Paganese 9 Benevento 8 Acragas Melfi Monopoli a 7 Ischia Lecce Messina 6 Foggia e Cosenza 5 punti Juve Stabia 4 Matera 3 Lupacastelli Romani e Martina Franca 2 anche Catanzaro 2 e Catania 1 E lasciamo la Lega Pro e passiamo alla Serie D anche in questo caso vediamo la videografica con i risultati Gragnano Vibonese 4 a 1 Scordia Siracusa 1 a 3 Due Torri Roccella 1 a 3 Gelbison Leonfortese 1 a 1 Noto Cavese 1 a 3 Palmese Marsala 1 a 0 Reggio Calabria Vigor Lamezia 2 a 0 Aversa Sarnese 0 a 0 Rinviata la partita Agropoli Rende E vediamo la classifica Palmese Cavese 13 Roccella 12 Scordia Sarnese e Vibonese 10 Siracusa Due Torri Gragnano e Marsala 7 Aversa Normanna Frattese Agropoli Leonfortese Reggio Calabria 6 Rende Noto Gelbison 4 Chiude la classifica La Vigor Lamezia con 0 punti E come avete appena sentito la Palmese Capolista i Neroverdi hanno sfruttato al meglio il fattore campo liquidando la pratica Marsala il servizio Supera il turno di Coppa Italia si conferma in testa la classifica di Seredi sia pure in compagnia della Cavese è il momento della matricola Palmese il cui obiettivo rimane sempre comunque la salvezza ma sognare a questo punto non costa nulla la gara con Marsala per i ragazzi di Salerno era considerata come la prova della maturità e Piemontese compagni il test lo hanno superato in maniera brillante terza affermazione di seguito è Marsala messa il tappeto che per quello che ha fatto vedere da San Giorgio merita di stare nei quartieri alti della classifica doppia festa per il bravo Foderaro per lui una giornata da incorniciare compleanno e rete davvero pesante messa a segno nella parte centrale del primo tempo si inizia con il Marsala pericoloso su panni inattivi su sviluppi di calcio d'angolo la compaggine siciliana si fa il gol di testa con Riccobono e poi con una conclusione da fuori aria la Palmese reagisce con Foderaro che servito stupendamente da Piemontese batte a botta sicura ma un difensore ospite scivolata gli nega la rete sono queste le prove del gol che arriva sempre con Foderaro grande partita la sua che ancora una volta approfitta di un assist perfetto di Piemontese da solo ha messo K.O. l'intera difesa ospite che con un perfetto tiro va a gonfiare la rete nel Salese non si perde l'animo la compagine di Percolizzi che con Riccobono prima e successivamente con Candia provano ad impensierire l'attente ottimo portiere di casa non cambia il copione nella ripresa con la formazione ospite che tenta la carta Gallon ma con la Palmese di oggi c'era davvero poco da fare cuore grinta carattere determinazione sono questi requisiti che in questo momento stanno facendo volare e sognare la Palmese e poco importa se i lavori dell'Opressi sono ancora fermi per quello che riguarda questa squadra che gioca e diverte e domenica il numeroso pubblico a Corsa a San Giorgio si è divertito davvero tanto domenica è importante per le regine di serie D anche il Roccella è vincente e torna con tre punti d'oro dal terreno del Due Torri due contropiedi in meno di tre minuti regalano a Roccella la vittoria in casa del Due Torri e la terza è in campionato la seconda di fila per gli uomini di Galati ormai distanti solo un passo dalla vetta i calabresi volano sul campo la condizione fisica è perfetta pronti via Roccella è già avanti a segnare Dorato che al quarto stende a freddo la retroguarda bianco-rossa i siciliani restano impietriti l'arbitro punisce con il rosso scolaro e per il Due Torri la sfida si fa nerissima tuttavia la squadra di casa trova la forza di reggere e di arrivare anche al pari con Tricamo alla 31esimo poco più tardi il Due Torri ha clamorosamente la chance del controsorpasso quando Mittica stende in aria d'amico e l'arbitro concede il penalty ai locali ma dal dischetto Pitaresi si fa intuire la traiettoria e la portiera del Roccella si riscatta subito nel secondo tempo i calabresi contengono la vemenza siciliana che si fa più pressante al 68esimo quando il direttore di gara ristabilisce la parità numerica in campo con il doppio giallo sventolato a pinto è l'episodio che paradossalmente risveglia la formazione di Galati che con due fulmine ripartenze colpisce e affonda i torresi a stendere padrone di casa e criniti tra il 70esimo e il 73esimo nel finale il forcing dei locali serve solo a collezionare corner e tiri dal limite finisce 1-3 e per il Rocella e Magic Moment Ed è stata quindi una domenica di grazia per le compagini reggine e vince anche l'ASD Reggio di Ciccio Cozza anche se fatica e non poco per regolare i conti con una Vigor Lamezia allo sbando Reggio Calabria Vigor Lamezia è una partita che va raccontata dalla fine da un finale di gara che ha tolto dalla braccia Ciccio Cozza e tutta la sua squadra facendo tirare un bel sospiro di sollievo a tutta la piazza dello stretto ma lasciando tanti punti interrogativi su gioco e dimensione reale perché gli applausi li prende tutti la baby formazione lametina capace di imbrigliare gli amaranto per 80 minuti una autentica dimostrazione di fatto che nel calcio contano a volte più le motivazioni che gli uomini in campo un'impresa spezzata al minuto 33 della ripresa da Bramucci bravo a sorprendere tutti sugli sviluppi di un corner l'incubo svanisce e la Vigor ritorna alla cenerentola del girone sul gong arriva anche il raddoppio di casa firmato da Maisano vince Reggio ma la vigora esce con onore delle armi nota particolare per il portiere biancoverde Fazzina l'ultimo ad arrendersi è la seconda vittoria in campionato per gli uomini di Cozza momentaneamente fuori dalla zona rossa della classifica ma la tranquillità è un'altra cosa e completiamo il quadro della serie D con la Vibonese che nell'anticipo di sabato all'esordio ha perso pesantemente in trasferta contro il Gragnano mettiamola così non tutto il mal viene per nuocere anzi sconfitte pesanti come quella di Vichequense contro il Gragnano nell'anticipo di sabato seppur fiaccano il morale essendo lo schianto più violento quando si cade da così in alto costituiscono a volte una lezione salutare la Vibonese perde la vetta per effetto di un 4-1 esterno che si commenta da sé nelle dimensioni quanto all'andamento della gara beh questa è un'altra storia ma il calcio ha regole diverse dalla box e così alla fine del primo tempo in terra campana nessuno forse avrebbe scommesso che sarebbe finita in questo modo tant'è la traversa di Allegretti e il palo di Cosenza gridano vendette e bilanciano quella piccola dose di fortuna che aveva baciato il rosso-blu nelle domeniche precedenti che fare adesso guardare avanti e rialzarsi non si era fenomeni prima non si è diventati i brocchi dopo una sconfitta maturata all'epilogo di 17 risultati utili consecutivi adesso si pensa allo scordia poi il derby big match con la palmese confermatasi capolista di un torneo nel quale domenica dopo domenica tutto può succedere e adesso il basket il talento non basta è la viola delle stelle cade in casa all'esordio contro Casale Monferrato Francesco Creazzo la viola è bella ma per 20 minuti purtroppo per la compagine nero-arancio però le partite di pallacanestro durano esattamente il doppio nell'esordio casalingo in campionato la Berme perde in casa contro la Novi Più Casale Monferrato in una partita dai due volti nel primo quarto sostanziale equilibrio con la Novi Più infallibile da tre punti i ragazzi in blu tentano l'allungo grazie a un break scatenato chiuderà con 16 punti ma gli uomini di Benedetto ricuciano lo strappo grazie al pick and roll centrale gestito da Spinelli e Breckins il secondo quarto è un'altra storia la viola comincia a girare Freeman sale in cattedra un ventello per lui a fine gara e viola che chiude la prima frazione sul più sette in apertura di terzo quarto si allarga la forbice con la viola avanti anche di 11 punti su una squadra Casale tecnicamente di livello inferiore sembra fatta a tutti e purtroppo per i nero arancio forse anche ai giocatori sul parquet di un palacalafiore che registra 3500 presenze da qui a fine partita si assiste il suicidio della Berme Viola Reggio Calabria in difesa non si ruota più sul perimetro e i tiratori di un'organizzatissima Casale puniscono l'errore in attacco poche idee ma ben confuse emblematico l'ultimo minuto penetrazione scarico di Spinelli per nessuno palla persa dall'altra parte canestro di Blizzard Freeman decide di gestire l'ultimo possesso in isolamento ma Breckins si addormenta e non porta il blocco stoppata di Stahl 62 a 61 per Casale squadra meno talentuosa ma solida e attenta per ora il contrario della Viola Reggio Calabria e nel post gara il coach della Viola Giovanni Benedetto ha manifestato la sua amarezza per il risultato sentiamo ma io non guardo gli ultimi due minuti guardo gli ultimi 20 minuti gli ultimi due minuti poi sono le situazioni che ti possono andare bene ti possono andare male ti possono far vincere o far perdere complimenti che faccio ai miei avversari ma siamo stati noi estremamente ripeto non abbiamo giocato come più in due quarti dove abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutti ci siamo un po' dimenticati di muoverci di correre di trovare dei canestri facili abbiamo cercato di andare ai loro ritmi è una cosa che noi non possiamo fare sicuramente abbiamo necessità di migliorare abbiamo fatto 20 minuti di una buona palacanestro nonostante una squadra che sapevamo che difendeva duro sapevamo che voleva tenere ritmi bassi sapevamo che ci avrebbe grado di difficoltà però riusciamo a portare ritmi un po' più alti a quelli che sono più congelati a noi nel terzo nel quarto quarto abbiamo fatto tutto il controllo di quello che era giusto fa abbiamo seguito i loro ritmi e ci hanno portato poi a giocare in maniera sbagliata in maniera molto frammentata senza comunque la palla senza cercarci senza trovarci senza trovare canestri facili in contropiede quindi più che dei due minuti finali parlerei dei due quarti finali dove sono realmente secondo me non bene anzi non trovo nulla di buono in questi venti minuti finali termina qui l'appuntamento con l'informazione grazie per averci seguito a voi tutti un buon proseguimento di giornata sulla nostra rete visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie di giornata per averci seguito la nostra rete la nostra rete la nostra rete la nostra rete è una rete che la nostra rete